Cior e Kalinic La memoria di un cacciatore Chi ha avuto occasione di passare dal distretto di Bolchov in quello di Zistra è rimasto probabilmente colpito dalla netta differenza esistente tra la gente della provincia di Oriol e la gente di Kaluga. Il contadino di Oriol è di bassa statura, un po' curvo, tetro. Guarda di sotto in su, vive in meschine casucce di tremula, va a lavorare per il padrone. Non commerza, mangia male, porta i lapti. Il contadino di Kaluga, che è a Canone, abita in spaziosi isbe di pino. È alto, guarda in modo ardito e allegro. Ha il viso pulito e bianco, traffica in olio e catrame e nei giorni di festa porta gli stivali. Un villaggio della zona di Oriol, parliamo della parte orientale della provincia di Oriol, è situato solitamente in mezzo a campi arati, presso un burrone più o meno trasformato in sudice o stagno. All'infuori di pochi citisi, che non mancano mai, e di due o tre betulle, non vede un albero intorno per una versta. Le isbe sono appiccicate l'una all'altra, i tetti sono coperti di paglia fradica. Il villaggio della zona di Kaluga, invece, è per lo più circondato dal bosco. Le isbe sono più distanti l'una dall'altra e più dritte e sono coperte di tavole. Il padrone chiude bene, il recinto dietro la corte non va in pezzi e non casca in fuori, non invita ogni maiale di passaggio ad entrare. Anche per il cacciatore, in provincia di Kaluga è meglio. Nella provincia di Oriol, le ultime foreste spianate, tra un cinque anni, saranno sparite e di paludi non è rimasta neppure la trazza. In quella di Kaluga, invece, i boschi riservati si stendono per centinaia, i paludi per decine diverse. E non si è ancora perduta la nobile razza del gallo cedrone. Vi alligna il tordo bonario e la pernice, affacendata col suo volo a scatti, rallegra e impaurisce il tiratore e il cane. Frequentando come cacciatore il distretto di Zisdra, mi incontrai in un campo e feci conoscenza con un piccolo cacciatore di Kaluga, Polutikin, cacciatore appassionato e quindi uomo eccellente. Aveva chiaro alcune debolezze. Per esempio, chiedeva in sposa tutte le ragazze da marito della provincia e dopo essersi visto negare e la mano della fanciulla e l'ingresso in casa sua, con cuore afflitto confidava il suo dolore a tutti gli amici e conoscenti e ai genitori delle ragazze continuava a mandare in dono pesche a sprigne e altri prodotti greggi del suo giardino. Gli piaceva ripetere sempre lo stesso aneddoto, che nonostante il gran conto tenutone dal signor Polutikin, non faceva proprio mai ridere nessuno. Lo dava alle opere di Akim Nakhinov e la novella Pinna. Era balbuziente, chiamava il proprio cane astronomo, invece di Odnaco diceva Odnas e aveva introdotto in casa sua la cucina francese, il cui segreto, secondo le idee del suo cuoco, consisteva nel totale cambiamento del gusto naturale di ciascuna vivanda. La carne, manipolata da questo esperto, sapeva di pesce, il pesce di funghi, il maccherone di polvere da sparo. In cambio, neppure una carota finiva nella minestra senza aver assunto la forma di rombo o di trapezio, ma tolti questi piccoli e rilevanti difetti, il signor Polutikin, come si è detto, era un uomo eccellente. Fin dal primo giorno della mia conoscenza col signor Polutikin, egli mi invitò a passare la notte a casa sua. Di qui a casa mia ci saranno cinque verste, aggiunse, a piedi e lunga. Passiamo prima da Chor. Il lettore mi consentirà di non rendere la sua balbuzie. Chi è Chor? Un mio contadino. Di qui è vicinissimo. Ci avviamo da lui. In mezzo a un bosco, in una radura rastrellata e coltivata, sorgeva la solitaria masseria di Chor. Essa si componeva di alcune costruzioni di pino, unite da stecconati. Davanti all'isba principale si stendeva una tettoia, sorretta da sottili pilastrini. Entrammo. Ci venne incontro un giovane sui vent'anni, alto e bello. «Ah, Fedia, è in casa, Chor?» gli domandò il signor Polutikin. «No, Chor è andato in città», rispose giovanotto, sorridendo, e mostrando una fila di denti bianchi come la neve. «Ordinate di attaccare la carretta?» «Sì, fratello, la carretta!» «E portaci del Quas!» Entrammo nell'isba. Neppure un'oleografia di Sussdal era incollata sulle pulite pareti di travi. In un angolo, davanti a una pesante immagine in cornice d'argento, ardeva un lumino. Una tavola di tiglio era raschiata e lavata da poco. Fra le travi e sugli stipidi delle finestre non vagavano blatte vivaci, non si celavano pensosi scarafaggi. Il giovanotto comparve ben presto con un grosso boccale bianco, pieno di bonquas, un'enorme fetta di pane di frumento e una dozzina di cetrioli salati in una ciotola di legno. Egli posò tutte queste provvigioni sulla tavola, si appoggiò alla porta e si mise a guardarci con un sorriso. Ancora non avevamo finito il nostro spuntino, che si sentì il rumore della taliega davanti alla scaletta. Uscimmo. Un ragazzo sui quindici anni, ricciuto e rubicondo, sedeva a cassetta e tratteneva a fatica un ben pasciuto stallone pezzato. Intorno alla taliega stavano sei giovani giganti, molto simili l'uno all'altro e a Fedia. «Tutti figli di Cior», osservò Pulutichin. «Tutti cioretti», soggiunse Fedia, che era uscito dietro di noi sul terrazzino. «E non ci sono ancora tutti». Potap è nel bosco e il sidor è andato in città col vecchio Cior. «Dunque guarda, Vassia», proseguì volendosi a cocchiere, «va di carriera, porti il signore, ma bada, rallenta e sobbalsi, che rovineresti la taliega e disturberesti le viscere del signore». Gli altri cioretti sorrisero per l'uscita di Fedia. «Fate salire astronomo», esclamò solennemente il signor Pulutichin. Fedia, non senza soddisfazione, sollevò in aria il cane, che assisteva impacciato, e lo depose sul fondo della carretta. Vassia allentò le redini. «Partimmo». «Ecco, questo è il mio ufficio», mi disse a un tratto il signor Pulutichin, indicando una piccola casetta bassa. «Vogliamo darci una capatina?» «Volentieri». «Ora è soppresso», egli osservò scendendo. «Ma mette sempre conto vederlo». L'ufficio consisteva in due stanze vuote. Il guardiano, un vecchio guercio, accorse dal cortile. «Salute, Miniajc», disse il signor Pulutichin. «E l'acqua, dov'è?» Il vecchio guercio disparve e tornò subito con una bottiglia d'acqua e due bicchieri. «Assaggiatela», mi disse Pulutichin. «È buona. È acqua di sorgente. Bevemmo un bicchiere ciascuno, mentre il vecchio ci faceva profondi inchini. «Beh, ora pare che possiamo andare», osservò il mio nuovo amico. «In questo ufficio ho venduto al mercante a Lulijef quattro desiatine di bosco a prezzo vantaggioso. Salimmo in Taliega e di lì a mezz'ora entravamo già nel cortile della casa padronale. «Dite, per favore», domandai a Pulutichin a cena, «perché Cior vive separato dagli altri vostri contadini?» «Ecco il perché. lui è un contadino intelligente. Circa venticinque anni fa la sua isba prese fuoco e lui se ne viene da mio padre, buonanima, e dice «Permettetemi, Nikolai Kuzmich, di stabilirmi nel bosco da voi, sul padule. Vi pagherò un buon canone». «Ma perché vuoi stabilirti sul padule?» «Ma così, soltanto, batiuschia Nikolai Kuzmich, e vi pregherei di non impegnarmi più in nessun lavoro e fissatemi il canone. Voi sapete che canone fissarmi?» «Cinquanta rubri all'anno». «Accettato, ma senza arretrati, vada». «Senza arretrati, si sa!» Ed ecco che si stabilì sul padule. Da allora lo soprannominarono «Cior». «E si arricchì?» domandai. «Si arricchì. Ora mi paga cento rubri d'argento di canone e forse glielo aumenterò ancora». «Già glielo ho detto più di una volta. Riscattati, Cior, riscattati». E lui, il furfante, mi assicura che non ne ha i mezzi. «Denari, dice, non ne ha. Questo poi!» Il giorno seguente, subito dopo il tè, andammo di nuovo a caccia. Passando per il villaggio, il signor Polutikin ordinò al cocchiere di fermarsi presso una cajupola bassa e chiamò sonoramente «Kaliniz!» «Subito, Batyshka, subito!» si sentì una voce dalla corte. «Mi sto allacciando un lapote!» Proseguimmo al passo. Fuori del villaggio ci raggiunse un uomo sui quarant'anni, d'alta statura, magro, con una testa piccola piegata all'indietro. Era Kaliniz. Il suo bonario viso bruno, quello abutterato, mi piacque al primo sguardo. Kaliniz, come seppi poi, andava ogni giorno a caccia col padrone. Gli portava la bisaccia, a volte anche il fucile. Osservava dove si posava un uccello, procurava dell'acqua, coglieva fragole, costruiva capanne, correva a prendere il calesse. Senza di lui il signor Polutikin non poteva fare un passo. Kaliniz aveva l'indole più allegra, più umite del mondo, canticchiava di continuo, sottovoce, guardava spensierato da tutte le parti, parlava un po' nel naso, nel sorridere socchiudeva gli occhi azzurro chiari e spesso si prendeva in mano la rada barbetta a forma di cuneo. Non camminava svelto, ma con passo allungato, appoggiandosi appena a un bastone lungo e sottile. durante la giornata egli avviò più di una volta il discorso con me, mi rese piccoli servizi senza servilità, ma sul padrone vigilava come su un bambino. Quando l'insopportabile calura del pomeriggio ci costrinse a cercare un riparo, egli ci condusse alla sua bugnerezza, nel più folto del bosco. Kaliniz fececi aprire una cappannuccia dalle cui pareti pendevano fascette di erbe secche e odorose. Ci fece accomodare sul fiano fresco e lui infilò sulla testa una specie di sacco con la rete, prese un coltello, un vaso e un tizzo e andò alla bugnerezza a staccare un favo per noi. Sul limpido miele tiepido bevemmo acqua di sorgente e ci addormentammo al monotono ronzio delle api e al balbettio ciarliero delle foglie. Un lieve soffio di venticello mi svegliò. A persi gli occhi e vidi Kaliniz. Era seduto sulla soglia dell'uscio semiaperto e con un coltello si ritagliava un cucchiaio di legno. A lungo ammirai il suo viso mite e limpido come il cielo di sera. Anche il signor Pulutikin si svegliò. Non ci alzammo subito. È piacevole dopo una lunga camminata e un profondo sonno stare a giacere immobili sul fieno. Il corpo si crogiuola e langue. Il viso arde lievemente. Una dolce pigrizia appesantisce gli occhi. Finalmente ci alzammo e andammo di nuovo peregrinando fino a sera. Durante la cena mi rimise a parlare di Chor e di Kaliniz. Kaliniz è un buon contadino mi disse il signor Pulutikin un contadino zelante e servizievole ma la masseria non può badare come si deve. Io lo tracino sempre via. Viene a caccia con me ogni giorno. Come possa andare la masseria giudicate voi stesso. Consentii con lui e ci curicammo. Il giorno dopo il signor Pulutikin fu costretto a recarsi in città per una causa che aveva col vicino Pichukov. Il vicino Pichukov arando aveva usurpato un po' del suo terreno e sulla terra usurpata aveva frustato una contadina dello stesso Pulutikin. Andai a caccia solo e verso sera passai da Chor. Sulla soglia dell'isba mi venne incontro un vecchio calvo di bassa statura largo di spalle e robusto. Chor in persona. Guardai con curiosità questo Chor insieme del suo volto rammentava Socrate la stessa fronte alta bitorzoluta gli stessi piccoli occhietti lo stesso naso camuso. Entrammo insieme nell'isba quello stesso Fedia mi portò del latte con pane scuro. Chor sedette su una panca e liciandosi tranquillo tranquillo la barba ricciuta entrò in discorso con me. Pareva che sentisse la sua dignità parlava e si muoveva ad agio di tanto in tanto rideva sotto i suoi lunghi baffi ragionammo della semina del raccolto della vita contadina pareva che consentisse sempre con me solo che dopo io provavo un po' di disagio e sentivo di non dire giusto mi veniva fuori un non so che di strano Chor si esprimeva a volte in modo complicato certo per prudenza eccovi un campioncino della nostra conversazione senti un po' Chor gli dicevo perché non ti riscatti del tuo padrone e perché dovrai riscattarmi ora io conosco il mio padrone e conosco il mio canone il nostro è un buon padrone ma è sempre meglio essere liberi osservai Chor mi guardò di traverso certamente disse e allora perché non ti riscatti Chor storse un po' la testa con che cosa Batiusca vuoi che mi riscatti beh lasciamo stare vecchio mio ecco Chor passato negli uomini liberi continuò a mezza voce come tra sé chi vive senza barba comanda Chor che è la barba la barba è come l'erba si può falciare e tagliati la barba anche tu ebbene allora ma Chor potrebbe anche passare senz'altro ai mercanti i mercanti fanno buona vita e anche loro portano la barba traffichi un poco anche tu non è vero gli domandai traffichiamo qualche cosuccia in olio in catrame comandi Batiusca di attaccare la carretta tieni la lingua a posto sei un volpone pensai no disse ad alta voce la carretta non mi serve domani me ne andrò un po' attorno alla tua masseria e se permetti mi fermerò a passare la notte nel tuo fienile benvenuto ma ti ci troverai bene nel fienile dirò alle donne di stenderci un lenzuolo e di metterci un guanciale ehi donne gridò alzandosi da sedere qua donne e tu fedia va col signore le donne si sa sono una razza sciocca un quarto d'ora dopo fedia con una lanterna mi accompagnava al fienile mi gettai sul fieno odoroso il cane si acciambellò ai miei piedi fedia mi augurò la buonanotte la porta scricchiolò e sbatté per un bel po' non potei prender sonno una mucca si avvicinò alla porta soffiò con rumore un paio di volte il cane le rugliò contro dignitosamente un maiale passò grugnendo pensoso da qualche parte lì vicino un cavallo si mise a masticar fieno e a sbuffare finalmente mi assopii all'alba fedia mi svegliò questo giovanotto allegro e sveglio mi piaceva molto e per quel che potei osservare era anche il preferito del vecchio cior essi si canzonavano a vicenda con molto garbo il vecchio mi venne incontro fosse perché avevo passato la notte sotto il suo tetto o per qualche altro motivo fatto sta che cior mi trattò assai più gentilmente del giorno prima il samovar per te è pronto mi disse con un sorriso andiamo a bere il tè sedemmo a tavola una donna robusta una delle sue muore portò un vaso di latte tutti i figli entrarono uno dopo l'altro nell'isba che dente alta la tua osservai al vecchio sì disse egli rompendo coi denti un minuscolo pezzo di zucchero di me e della mia vecchia non hanno pare da lamentarsi e stanno tutti con te tutti lo vogliono loro e così ci stanno e sono tutti sposati questo qui solo rompi collo non si sposa rispose indicando fedia che come l'altra volta si era appoggiato alla porta vasca quello è ancora giovane quello può aspettare perché mi dovrai sposare ribette fedia anche così sto bene a che mi servirebbe la moglie forse per litigarsi già tu io ti conosco porti gli anelli d'argento vorresti sempre fartela con le ragazze al servizio del padrone piantatela svergognati proseguì il vecchio contraffacendo le cameriere ti conosco sfaticato che sei ma nella donna che c'è di buono la donna è lavoratrice osservò gravemente Cior la donna è la serva dell'uomo e che me ne faccio di una lavoratrice gli è che ami prendere il fuoco con le mani degli altri li conosciamo i vostri pari beh quando è così dammi pure moglie ebbene perché te ne stai zitto beh su basta basta chiacchierino che diamo noia al signore la moglie te la troverò non temere e tu Batiusca non andare in collera è un ragazzino vedi non ha ancora l'età del giudizio Fedia scossa il capo è in casa Cior risuonò dietro la porta una voce nota e Calini centrò nell'isba tenendo in mano un mazzetto di fragole di campo che aveva colto per il suo amico Cior il vecchio lo salutò cordialmente guardai Calini con stupore confesso che non m'aspettavo simili finezze da un contadino quel giorno andrai a cazza un quattro ore più tardi del solito e i tre giorni seguenti li passai da Cior i miei nuovi conoscenti mi interessavano non so come mi fossi guadagnato la loro fiducia ma essi conversavano con me senza impaccio io li ascoltavo con piacere e li osservavo i due amici non si somigliavano punto Cior era un uomo positivo pratico con la testa amministrativa un razionalista Calini al contrario apparteneva all'overo degli idealisti dei romantici della gente entusiasta e sognatrice Cior capiva la realtà cioè si era costruito la sua casa aveva ammucchiato un po' di quattrini era in buona col padrone e con le autorità Calini portava i lapti e vivacchiava alla meglio Cior aveva messo al mondo una numerosa famiglia sottomessa e concorde Calini aveva avuto un tempo una moglie che gli temeva e figli non ne aveva avuti affatto Cior capiva a fondo il signor Polutikin Calini venerava il suo signore Cior amava Calini e gli dimostrava protezione Calini amava e stimava Cior Cior parlava poco e se la intendeva tra sé e intendeva le cose per conto suo Calini si spiegava con calore benché non fosse un cicalone come uno svelto garzone d'officina ma Calini era dotato di particolari doni che Cior spesso riconosceva per esempio scongiurava il sangue la paura la rabbia scacciava i vermi le api gli facevano buona riuscita aveva la mano felice Cior dinanzi a me lo pregò di condurre nella stalla un cavallo comprato da poco e Calini con coscienziosa gravità esaudì la preghiera del vecchio scettico Calini era più vicino alla natura Cior invece alla gente alla società a Calini non piaceva discutere e credeva ciecamente a tutto Cior si innalzava fino a guardare la vita da un punto di vista ironico egli aveva veduto molto sapeva molto e io da lui ho imparato molte cose per esempio dai suoi racconti ho saputo che ogni estate prima della falciatura compare nei villaggi una piccola carretta di aspetto speciale su questa carretta sta a un uomo in caffettano e vende falci a contanti le fa un rublo e 25 copeche un rublo e mezzo di carta a credito tre rubli di carta e un rublo d'argento tutti i contadini si intende prendono a credito dopo due tre settimane egli riappare e chiede i denari il contadino ha appena falciato la vena perciò non ha di che pagare va col mercante all'osteria e là regola il conto alcuni proprietari pensarono di comprare essi stessi le falci a contanti e distribuirle a credito ai contadini per lo stesso prezzo ma i contadini rimasero scontenti e si scoraggiarono perfino erano privati del piacere di far scattare le dita sulla falce di ascoltarne il suono di ritirarsela tra le mani e di domandare una ventina di volte al furbo venditore ma giovanotto è poi davvero buona questa falce gli stessi maneggi avvengono anche alla compiera dei falcini con la sola differenza che qui nella faccenda si mescolano le donne e mettono a volte il venditore nella necessità di picchiarle un po' per il loro proprio bene ma ecco in quale occasione più di tutto le donne ci rimettono i fornitori di materiale alle cartiere incaricano dell'incetta di stracci una speciale categoria di uomini che in certi distretti sono chiamati aquile l'aquila riceve dal mercante un paio di centinaia di rubli di carta e si dirige alla volta della preda ma all'opposto del nobile uccello di cui ha preso il nome non si avventa apertamente e audacemente al contrario l'aquila ricorre all'astuzia e alla malizia lascia la sua carretta da qualche parte fra i cespugli fuori del villaggio e si avvia passando dietro le aie e le case come un passante qualunque o come un semplice bighellone le donne indovinano distinto il suo avvicinarsi e gli vanno incontro alla chetichella in fretta si fanno i patti per alcune monete di rame la donna consegna all'aquila non solo ogni censo inutile ma spesso anche la camicia del marito e la propria gonna negli ultimi tempi le donne trovarono vantaggioso privare se stesse e fare smercio in tal modo della canapa e specialmente della stoppa con notevole incremento e perfezionamento dell'industria dell'aquila ma i contadini a loro volta si sono scaltriti e al minimo sospetto al più lontano sentore di una comparsa dell'aquila procedono con rapidità ed energia ad interventi correttivi e preventivi e infatti non c'era da adontarsi vender la canapa e cosa loro ed essi appunto la vendono non in città in città dovrebbero trascinarsi di persona ma i mercanti forestieri i quali per mancanza di stadera calcolano il pud a 40 manate e voi sapete che cosa siano il pugno e la palma di un russo specialmente quando ci si mette d'impegno di tali racconti inesperto come sono e non vissuto in campagna come si dice da noi a Oriol ne ha uditi in quantità ma Cior non sempre raccontava egli stesso mi domandava molte cose seppe che ero stato qualche volta all'estero e la sua curiosità si accese Kalinitz non era da meno di lui ma Kalinitz si commuoveva di più alla descrizione della natura dei monti delle cascate degli edifici straordinari delle grandi città Cior si interessava alle questioni amministrative statali egli passava in rassegna tutto con ordine ebbene questo da loro è lo stesso che da noi oppure altrimenti su dimmi Batiuska com'è eh ah signore volontà tua esclamava Kalinitz durante il mio racconto Cior taceva aggrottava le volte sopracciglia e solo di tanto in tanto osservava che questo diciamo da noi non andrebbe e questo sì va bene questo è ordine non posso riferirvi tutte le sue domande e non ci sarebbe scopo ma dalle nostre conversazioni ho tratto un convincimento che probabilmente i lettori non si attendono punto il convincimento che Pietro il Grande fu un russo per eccellenza russo per l'appunto nelle sue riforme il russo è tanto sicuro della propria forza e saldezza che non è alieno dal piegarsi un po' egli si occupa poco del suo passato e guarda coraggiosamente innanzi quel che bene gli piace quel che è ragionevole glielo si dice ed onde esso venga non gli importa il suo buonsenso canzona volentieri l'asciutta ragione tedesca ma i tedeschi a detta di Chor sono un popolo curioso ma lui è pronto a imparare da loro grazie alla sua eccezionale posizione alla sua indipendenza di fatto Chor parlava con me di molte cose che da un altro non si tirerebbero fuori con la leva come dicono i contadini né si spremerebbero con la macina egli capiva realmente la propria situazione discorrendo con Chor intesi per la prima volta la semplice intelligente parlata del contadino russo le sue cognizioni erano abbastanza vaste per lui ma egli non sapeva leggere Kalinich sapeva questo birbone sei riuscito a imparare a leggere e scrivere osservò Chor e anche le api novelle non gli sono mai morte e ai tuoi figli hai insegnato a leggere e scrivere Chor tacò un poco Fedia sa e gli altri gli altri non sanno perché il vecchio non rispose e cambiò discorso del resto per quanto fosse intelligente anche lui aveva molti pregiudizi e preconcetti le donne per esempio le disprezzava dal profondo dell'anima e nei momenti d'allegria si divertiva a farsene beffe sua moglie vecchia e litigiosa non scendeva dalla stufa per tutto il giorno e brontolava e sgridava di continuo i figli non li badavano ma le nuore lei le teneva nel timor di Dio non per nulla nella canzone russa la suocera canta che figlio che padre di famiglia sei tu non picchi la moglie la giovane moglie una volta mi venne l'idea di prenderla parte delle nuore tentai di muovere a compassione ciò ma egli mi replicò tranquillamente che non c'era sugo a occuparsi di simili inezie litigassero pure le donne a separarle si fa peggio e non mette conto di sporcarsi le mani a volte la rabbiosa vecchia scendeva dalla stufa chiamava dall'andito il cane da guardia aggiungendo qui qui cagnetta e lo picchiava sulla magra schiena con l'attizzatoio oppure si metteva sotto la tettoia e abbaiava come si esprimeva Cior con tutti i passanti del marito però aveva paura e a un comando di lui se ne andava al suo posto sulla stufa ma specialmente interessante era ascoltare la disputa di Kalinic e Cior quando si veniva a parlare del signor Polutikin beh tu Cior non me lo toccare diceva Kalinic e perché non ti fai fare un paio di stivali replicava l'altro che stivali a che mi servono gli stivali io sono un contadino ecco anch'io sono un contadino eppure così dicendo Cior alzava il piede e mostrava a Kalinic uno stivale tagliato probabilmente in una pelle di mammut beh forse che tu sei un nostro pari rispondeva Kalinic beh almeno ti desse di che comprare i lapti tu vai con lui a caccia ogni giorno credo ti ci va un paio di lapti per i lapti me ne dà sì l'anno scorso ti regalò un Grivennich Kalinic si voltava in là con dispetto e Cior scoppiava in una risata mentre i suoi piccoli occhietti sparivano del tutto Kalinic cantava abbastanza piacevolmente e suonava un poco la bala laica Cior l'ascoltava l'ascoltava piegava improvvisamente la testa da un lato e cominciava ad accompagnare con voce lamentosa gli piaceva soprattutto la canzone sorte oh sorte mia Fedian non si lasciava scappare l'occasione di canzonare il padre che hai vecchio ti sei commosso ma Cior appoggiava la guancia sulla mano chiudeva gli occhi e seguitava l'agnarsi della sua sorte altre volte invece non c'era uomo più attivo di lui sempre d'attorno a qualche cosa accomodava il carro metteva un sostegno al recinto rivedeva i finimenti ma in casa non manteneva una particolare pulizia e alle mie osservazioni una volta rispose che bisognava bene che l'isba sapesse di abitazione ma guarda un po' riplicai com'è pulita la bugnerezza di Kalinitz le api non vivrebbero Batiuska dissegli con un sospiro ma tu mi domandò un'altra volta non hai terre di tua proprietà ne ho lontano di qua un centinaio di verste e tu Batiuska ci abiti nelle tue terre ci abito ma più che altro te la passi col fucile dirai sì lo confesso e fai bene Batiuska spara a piacertu sui galli di monte e cambia spesso lo starosta il quarto giorno verso sera il signor Polutikin mandò a prendermi per incresceva separarmi dal vecchio salì con Kalinitz sulla carretta beh addio cior conservati dissi addio fedia addio Batiuska addio non ci dimenticare partimmo il crepuscolo si era appena acceso domani farà bel tempo osservai guardando il cielo sereno no pioverà ribatté Kalinitz le anna trevedi guazzano nell'acqua e poi l'erba odora troppo forte cinò il tram fra i cespugli Kalinitz si mise a canterellare a mezza voce trabalzando a cassetta e guardava sempre guardava il crepuscolo il giorno dopo lasciai il tetto ospitale del signor Polutikin grazie Grazie a tutti.